Siamo con Marco Bergonzi, presidente Acer, eletto lo scorso novembre. Bergonzi che ha un illustre passato politico, è stato consigliere provinciale qua a Piacenza, è stato soprattutto parlamentare e adesso questo nuovo incarico, le hanno dato una bella gatta da pelare? Ma no, guardi, intanto buongiorno a tutti, buongiorno. Una bella gatta da pelare? No, è una nuova esperienza. Certo è che è una posizione nella quale ti confronti molto da vicino con i bisogni di tante persone e con una realtà complessa. Pensiamo che Acer gestisce, per conto dei comuni, direttamente o per conto dei comuni, circa 3.000 alloggi, nei quali vivono 6.500 persone. Pensiamo che questa realtà sarebbe il sesto, settimo comune della provincia. Quindi è una realtà molto importante e nella quale ti confronti ogni giorno con situazioni di bisogno, di difficoltà. È molto una frontiera. Quindi gatta da pelare? No, incarico molto stimolante che vedrà tutto il mio impegno. Poi speriamo che arrivi anche qualche risultato. Se l'aspettava più facile o più difficile l'avventura da queste prime battute? Le dirò. Io ho avuto diverse nuove prime avventure, lei ne ha citate alcune, ma ne ho avute diverse altre. Sono partito come consigliere comunale in un piccolo comune, addirittura fuori dalla nostra provincia, in Alta Valtrebbia, che è l'asta sulla quale è sempre scorsa la mia vita e poi come consigliere di circoscrizione a Piacenza. Ogni nuova esperienza ha le sue peculiarità. Certo che questa ti consente di mettere a fuoco, essendo meno dispersiva, perché poi nelle amministrazioni, sia locali, anche ancora più nazionale, e in quella nazionale, io tra l'altro ero dedicato alla Commissione Politica dell'Unione Europea, quindi avevo una dimensione che andava al di là. Questa è molto settoriale, è molto specifica. Ci occupiamo delle case dei piacentini, dove abitano altri piacentini, e quindi che non sono nelle condizioni di affrontare il libero mercato e quant'altro, quindi è una fascia in prima linea nel bisogno, in un bisogno primario, che è quello della casa, un'esperienza molto specifica, che ti confronti con tanti bisogni, e quindi ti consente, non dovendo essere tuttologi, penso che si dica così, o tuttologi, non lo so, non ho mai saputo, ti consente di mettere molto bene a fuoco un problema. Certo, sono due mesi e mezzo, ma è una cosa che ogni giorno entri un po' più in profondità, molto stimolante. I numeri anche recentemente hanno evidenziato la scarsità di alloggi di case popolari rispetto al numero di domande, circa il 10% delle domande viene soddisfatto. Si potrà incidere su questi numeri e riuscire a fare qualcosa? Sì, questi numeri sono numeri che vorremmo assolutamente migliorare. Io sono stato subito, dopo pochi giorni dal mio insediamento, a un incontro con tutte le acere dell'Emilia Romagna, l'assessore regionale, il nuovo assessore regionale Barbara Lori, e è un problema sentito da tutti. Noi stiamo meglio di altri territori, ma non ci accontentiamo al fatto di essere in una posizione migliore. E' chiaro che si sono letti i numeri 300 alloggi su 3.000. In realtà di questi 300 alloggi, circa la metà, sono o sono già stati riconsegnati o sono in fase di riconsegna ai comuni per nuove assegnazioni. Poi ce n'è un nucleo, mi pare a grandi linee circa 130 su 300, ce n'è questo nucleo che ha bisogno di un certo tipo di investimenti, circa un milione e mezzo di euro, per essere riattati e messi in condizioni di poter essere affidati a nuovi inquilini, a nuovi bisogni. Quindi sono gli alloggi in questo momento sfitti? Sono gli alloggi sfitti. Questa è la quota degli alloggi sfitti che ha risorse di oggi, è difficile renderla comprimibile. In questo momento è non comprimibile se non partecipando a bandi che ci consentono di ristrutturarli. La Regione tra l'altro su questo punto di vista si è espresso per il zero alloggi sfitti? Perfetto, questo salta fuori esattamente in quell'incontro a cui le faccio riferimento dei primi di dicembre, che è un progetto, attualmente è soltanto un progetto, una suggestione delle Acer ben raccolta dalla Regione, adesso poi vedremo come si tradurrà, ma sarebbe assolutamente interessante, secondo me anche per un privato, poter avere dei fondi che ti consentano di riattare e mettere gli alloggi tutti a reddito, a reddito, piano. Parliamo di alloggi dove il canone medio sui 3.000 alloggi della provincia di Piacenza è 113 euro. Quindi dobbiamo renderci conto che l'obiettivo non è fare utili, ma soddisfare un bisogno di casa. Però se tu hai 300 alloggi che non sono in questo momento affittati, 150 vanno in corso di affidamento, ma 150 non gli riesci a affidare perché non sono in condizioni di poterlo fare, e ci vuole un investimento di un milione e mezzo, se tu metti un milione e mezzo, consenti innanzitutto altre 150 persone di avere un tetto sulla testa. E poi entrano questi canoni, che ancorché canoni calmirati, ti consentono comunque di fare anche abitare quegli immobili che se li lasci sfitti e quindi disabitati si ammalorano ulteriormente. Quindi l'investimento sulla casa, su un piano casa che ci consentisse quantomeno di avere in perfetta efficienza tutti quelli che abbiamo, sarebbe innanzitutto una scelta lungimirante. Poi io direi che anche ora dopo tanti anni di mettere in campo un piano casa che a fronte di maggiori necessità consenta anche di costruire nuovi alloggi, perché noi dobbiamo costruire nuove case. Se ci sono fabbisogni che non riesci a soddisfare, è giusto pensare di costruire nuovi alloggi. Noi siamo molto contenti, nel nostro piccolo, della costruzione col progetto PINQA, i 7 milioni di euro che ci vengono dati, col progetto PINQA di riqualificazione della Farnesiana, costruiamo un fabbricato non impattante di 14 alloggi, gradevole, nuovo, riqualificazione. Sono queste le operazioni che noi dobbiamo fare. Ce ne vorrebbero molti di più, però? Ce ne vorrebbero molti di più, ce ne vorrebbero 20 come questo. 14 per 20 farebbe 280 e diciamo che ci porteremo in pareggio con i fabbisogni. Parliamo di Piacenza e provincia, attenzione. Piacenza sui 3 mila di cui le dicevo ne ha 2 mila e 2. 820 sono sparsi per la provincia. Però, insomma, Piacenza è chiaro che parliamo sempre di Piacenza, perché pesa di più a ruolo centrale, però consideriamo anche la provincia. E i soldi chi li dovrebbe mettere o chi li potrebbe mettere? Beh, i soldi vengono da cicliche partecipazioni a bandi che ti consentano di mettere a posto gli alloggi, oppure vengono dalle eccedenze canoni. Considerate che noi su circa 6 milioni e mezzo, 7 milioni di euro, dico una cosa, una forbice così ampia, perché vi do dei dati che sono dell'ultimo bilancio disponibile, cioè fine 2021, logicamente il 2022 dovrà ancora essere approvato. Noi abbiamo eccedenze canoni, cioè fondi con i quali mettiamo ordinariamente a posto gli alloggi, per circa 700 mila euro. Non è tanto, se lei li suddivide nei 28 comuni della provincia, dove insistono i mobili di edilizia residenziale pubblica, li divide tra questi 28 comuni e soprattutto i comuni di Piacenza. Non è tanto, facciamo due conti e si vede quel che occorre per sistemare gli altri, insomma, sono calcoli matematici molto semplici. Peraltro voi state investendo anche sull'efficientamento energetico, sull'abbattimento delle barriere architettoniche e lei anzi ha iniziato un dialogo forse un pochettino più fitto con i sindaci della provincia, anche per approfittare di alcuni fondi che esistono a livello regionale. Sì, con soddisfazione da parte nostra, spero anche da parte di qualche sindaco, abbiamo riunito recentissimamente, una settimana fa, il tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, che è un organismo strano, che io ho appreso venendo qui, non ne conoscevo l'esistenza, e infatti si riunisce ogni tanto proprio, si era riunito l'ultima volta, si figura alla fine del 2021, ma lo abbiamo riunito perché adesso c'è un bando per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici pubblici, non solo casi immobili ERP, ma anche il municipio, io le faccio l'esempio, è un bando regionale, è nella sua limitatezza, consideriamo 30 milioni su tutta la regione, se facciamo un po' una media, non sono tanti, a Piacenza potremmo avere tra il milione e il milione e mezzo, però abbiamo fatto questo incontro con tutti i sindaci per dire, signori c'è questa opportunità, abbiamo un tempo fino al 14 marzo, se abbiamo già qualche progetto che pensavamo, Acer fa la sua parte in termini di progettazione, partecipazione al bando aiuto, siamo qui, se volete utilizzarci, proviamoci, la cosa che dico è che ovviamente è quella che, è che questo bando prevede un finanziamento fino al 70, massimo 80%, il 20 o il 30 lo deve mettere il singolo comune, e quindi capiamo bene come con le difficoltà che ci sono, si possa anche scegliere comprensibilmente di non partecipare, perché non hai le risorse per partecipare. A proposito di risorse e di difficoltà, questo è un momento difficile anche per le famiglie, avete accantonato una quota extra a bilancio proprio per far fronte alle eventuali morosità, come sta andando la situazione? Ci sono molti casi di famiglie in difficoltà? Tutte le Acer dell'Emilia Romagna hanno consapevolmente con l'incremento dei costi energetici e di bolletta accantonato delle somme contro il rischio di un incremento della morosità. L'abbiamo fatto anche noi, appena insediati, abbiamo aumentato quel fondo da 100, lo abbiamo portato a 150 mila euro se ben ricordo, sta andando bene diciamo la bassa voce, ma il mese di dicembre, il mese di gennaio non ci riportano incrementi di morosità, c'è da dire che la seguiamo molto da vicino, abbiamo un ufficio dedicato tutti i giorni, chiama, concorda prima che si arrivi alla morosità, prima che si arrivi in una situazione troppo pesante nella quale bisogna agire, concorda dei piccoli rientri sulle piccole somme, quando sono ancora piccole, per evitare che si arrivi alla morosità. Quindi siamo in linea, non c'è nessuna grava. Quando si parla di case popolari, la buttiamo in qualche modo in politica, c'è sempre aperta la polemica fra chi dice che nelle assegnazioni delle case popolari bisognerebbe privilegiare gli italiani e i piacentini rispetto agli stranieri. C'è anche il tema, ad esempio, dell'ISEE, in cui in alcuni casi non compaiono le case degli stranieri, case all'estero. Secondo lei il sistema così com'è funziona o bisognerebbe apportare qualche modifica? Guardi, intanto la domanda mi dà l'occasione per darle un dato. Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica abitano cittadini di 52 nazionalità diverse. E come dicevo che gli alloggi pubblici sarebbero il settimo comune della provincia, 52 nazionalità diverse ti dà l'idea della complessità. No, il meccanismo di assegnazione degli alloggi è, intanzitutto, ci sono regolamenti diversi da comune a comune. Ogni comune si dà il suo regolamento e in base a quello fa le assegnazioni in quella porzione del territorio. No, sull'assegnazione, sulle graduatorie, le dico, non sono ancora in grado di ipotizzare possibili miglioramenti. Sulle assegnazioni, cioè una volta che hai fatto la graduatoria, però una mia idea me la sono fatta e secondo me lì va cambiato qualcosa. Nel senso che invece che consentire una facoltà di scelta tra una pluralità di immobili per quel nucleo familiare, ipotizziamo due persone, si liberano dieci alloggi, chiamo il primo e gli dico scegli tra questi dieci, chiamo il secondo e gli dico scegli tra questi nove e così via. E lui sceglie in base alla vicinanza col posto di lavoro, a dove stanno gli amici e quant'altro. Secondo me questo meccanismo va rivisto. Perché noi ci troviamo una geografia dell'abitare fatta sulla base, non gestita, ma fatta sulla base dei desiderata dell'assegnatario di turno. Io capisco che possa essere comodo, ma in realtà governare un fenomeno per evitare che ci siano anche situazioni in alcune zone di maggior tensione sociale o quant'altro, significa governare questo fenomeno. Mi spiego. Una famiglia con tanti bambini, io non la collocherei in un condominio dove sono solo anziani o dove magari uno ha due cani e in quell'abitazione nessuno ha i cani e magari sono poco graditi gli animali. Quando in realtà abbiamo altre realtà dove sono già piene di animali, piene di bambini, e allora indirizziamo lì a parità di condizioni della decorosità dell'alloggio. Tutto qui. Cioè cose che ti consentano, visto che Acer conosce molto bene gli inquilini e sa perfettamente le condizioni di ogni immobile, è una realtà preziosa, è una struttura di soli 25 persone, guardi, però io mi sono fatto un'ottima opinione delle persone che lavorano qui, è una sfida importante, ma queste cose, in queste cose i comuni ci devono, è la cosa nella quale forse ci devono utilizzare di più. Una graduatoria, se no, è un insieme di punteggi dati da una serie di indicatori. Mettiamoci, gestiamo anche questo aspetto. Un po' di umanità oltre ai numeri, insomma. L'umanità qui è necessaria a qualsiasi carta sposti, perché se vai soltanto con, poi è chiaro che le regole le seguiamo, ci mancherebbe altro, dobbiamo seguirle, però un quid in più ce lo devi mettere a parità di situazioni, devi fare delle considerazioni, perché qui tocchi veramente il bisogno e la vita delle persone. Aprendecizare Aprendecizare Grazie per la visione!